Che succede? Che succede? Guarda! C'è nulla! Questa è per noi proprio una c'è nulla! Zitta, maglia mia! Vuoi che tutti vengano a sapere come c'è successo? Dobbiamo stare tranquilli e fare niente di niente. Non dobbiamo farlo sospettire l'attività degli altri. Non dobbiamo mostrare i nostri figli a nessuno. Nel frattempo, troveremo la soluzione. Trascorso alcuni giorni e la cosa incominciava a fare sospettire la comunità dei grandi. D'ora i più disperati cominciavano a definire i lavori della comunità dei più sospettosi. Al punto che il capo della comunità, l'Arcigliano Rosarione, decidiva l'Arcigliano. Mi aggiunge a voce che i coniugi garotini e l'Arcigliano Ruffa, dopo la nascita dei loro due gemelli, si sono segregati in casa, senza mai prevedere tutti i non dati a nessuno. Non hanno potuto ricevere visite. Sembra che ci stiano nascondendo qualcosa. Ci devo vedere chiaro. Vanno subito a pagli di vista. Gerliano, senza dare nessun perviso, si regala in timore della coppia. Intenzione di smascherarli. Ma chi è? Aspettavamo qualcuno. Non lo so, vai a vedere. Sì. Buongiorno, se vi accidiamo. Entrate, entrate. A chi cosa deve la vostra visita? Proprio qui a casa mia e di mia moglie. Buongiorno, amico mio, come la? Buongiorno, amico mio, come la vostra visita.